Un autobus di linea di autoguidovie operatore del trasporto pubblico locale in provincia è uscito di strada finendo in un fosso. L'incidente è avvenuto durante il percorso da Milano a Bel Gioioso intorno alle 16.20 nelle vicinanze della frazione Cascina Bianca lungo la strada provinciale 9. Circa 15 persone sono rimaste ferite ma fortunatamente le lesioni non sono gravi.